Proteggere i fragili è questa la priorità per il microbiologo Andrea Crisanti a Lanciano in occasione di un incontro organizzato dal Rotary. Crisanti si è detto favorevole alle riaperture che avrebbero dovuto farle sin da gennaio quando eravamo maggiormente protetti, ha detto, ma il problema restano le persone a rischio. L'obiettivo è stato sempre quello di proteggere i fragili, va bene, quindi quando non c'era il vaccino l'unico strumento che avevamo era il lockdown, il distanziamento sociale che poi nella sua forma più estrema era appunto restare tutti a casa e la sospensione di tutte le attività. Poi chiaramente il vaccino ha cambiato completamente la situazione perché ci ha permesso molta più flessibilità. Il problema è che nel frattempo è cambiato anche il virus, quindi prima c'eravamo un virus che aveva un indice di infettività relativamente basso, 2, e adesso abbiamo un virus che ha un indice di infettività molto vicino al morbillo, cioè tra 12 e 15. Questo significa che le misure di restrizione, tipo zone rosse, zone nascione, non hanno nessun impatto e quindi non vale nemmeno la pena metterle. Allora il problema è come difendiamo i fragili in una situazione di alta trasmissione. È chiaro che bisogna cambiare paradigma, forse è questo che va capito, che rimanendo l'obiettivo, quello di proteggere i fragili, perché, parliamoci chiaro, i 150-180 morti al giorno non sono Vax, sono tutti i fragili vaccinati. È stata la polarizzazione su Vax e non Vax che ha impedito di puntualizzare questa cosa. E allora io penso che all'ordine del giorno dell'azione politica ci debba essere come proteggere i fragili. Faccio un esempio, se i fragili sono in età da lavoro bisogna consentirgli di fare il lavoro agile. Le posizioni ideologiche di alcuni ministri sono sbagliate, perché nel momento in cui tu non applichi più nessuna misura di restrizione, hai l'obbligo morale di proteggere chi potenzialmente esposto si infetta e va incontro a complicazioni gravi. Questo è il primo punto. Poi la quarta dose, sì, vabbè, la quarta dose si può sicuramente dare alle persone fragili, però tenendo presente che se uno è fragile e immunodepresso, le dosi le potete anche 5-6, non è che cambia la situazione. Ci sono persone anziane che non rispondono e questo bisogna tenerle presente. E poi ci sono tutti i fragili che stanno a casa, pensionati, magari con redditi bassi, e che anche quelli bisogna proteggerli dalle batanti che vanno ad accutirli e dai familiari che vanno ad aiutarli. Quindi a queste persone bisogna pensare a un sussidio per permettere a queste persone, quando vanno a trovarli, di fare tampone molecolare che sono negative. Ci abbiamo speso tantissimi soldi in tantissime cose inutili e a questo punto, in questa situazione, dove si liberalizza, ed è corretto liberalizzare, guardi perché, anzi, posso dire una cosa, penso che le misure sono state elevate troppo tardi, perché nel momento in cui la curva cadeva, la curva non è che cadeva perché avevamo il green pass o perché facevamo qualsiasi, la curva cadeva perché eravamo protetti. Nel momento in cui siamo protetti era lì che bisognava liberalizzare tutto. A tre mesi di distanza, chiaramente, il problema è che l'effetto della vaccinazione diminuisce. Quindi non c'è da sorprendersi che i casi aumentano. Professore, per quanto riguarda le cure, si stanno facendo passi avanti? Ma certo che si stanno facendo passi avanti. Lei pensi all'inizio c'è stato fatto di tutto, il contrario di tutto, senza nessun razionale. Adesso ci sono vari strumenti, alcuni monocolonali funzionano, ma funzionano in modo particolare per persone che in ogni caso andrebbero bene, perché abbreviano la durata delle malattie e sicuramente diminuiscono la carica virale. E poi ci sono alcuni antivirali che obiettivamente sembrano avere un effetto. Però, guardi, se ci avessimo un farmaco risolutivo non avremmo ossi 150 morti al giorno, parliamoci chiaro, quindi sicuramente tantissimo è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare.